Siamo donne! Oltre le gambe c'è di più! E' vero che oltre le gambe c'è di più, ma sappiamo quanto sia importante il loro benessere. La maggior parte di noi soffre di problemi di pesantezza e confiore, che spesso portano anche a dolore. Grazie ai Collant Sauber questo problema si può arginare. Infatti la compressione graduata, media o alta, aiuta a ridurre problemi legati alla microcircolazione. In farmacia puoi trovare un vasto assortimento fra autoreggenti, gambaletti, collant e anche la collezione Uomo a prezzi super scontati. Vieni a scoprire la promozione più adatta a te. Ti aspettiamo!